Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni meteo per la giornata di sabato. Ecco a livello europeo questa enorme bolla anticiclonica che mantiene condizioni di piena estate su tutte le nostre regioni con ampia apertura del cielo. Le temperature saranno oltre la media anche in Inghilterra, in Francia con massime di 7-8 gradi oltre appunto la media stagionale. Nel dettaglio possiamo notare sull'Italia una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi, guardiamo le precipitazioni perché non c'è rischio di pioggia in nessuna parte, sono qualche locale piovasco sull'Appennino meridionale e sulle interne della Sicilia. In sintesi la mappa dell'Italia, una giornata in prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi quasi dappertutto, le temperature tra i 26-29 gradi diffusamente su molte aree, dettagli maggiori, approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web.